ma lei stava a pensare ma oggi ci abbiamo ospiti tre persone ma che davvero e ci abbiamo solo due sedie ma una e due sai fa una cosa creane una arancione sempre e sennò dovrei mettere uno seduto quanto ci metti a creare una ma c'è un attimo guarda ora guarda guarda una hai detto una una ce la fai? si si ma non c'era ti è perfetto sta a vedere come è nuova guarda è pure il ritorno oh è bella o ma non per fare il ritorno delle coprette bel lavoro mi piace lo metto qui meno male va grazie 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 grazie